Il progetto presentato da Avanad è lo sportello digitale di ENAIL. Sportello digitale nasce dalla collaborazione tra ENAIL, Accenture Avanad e Microsoft per migliorare l'interazione dei cittadini con l'istituto. Aumenta la capacità di interagire da remoto per i cittadini, migliora l'accesso ai servizi e contestualmente incrementa le capacità digitali del personale ENAIL secondo i dettagli del PML. Da quando è stato lanciato sportello digitale nel luglio 2022 sono stati raggiunti diversi risultati. Per i cittadini sono diminuiti di molto i tempi per gli appuntamenti e di conseguenza è aumentata la fiducia nei confronti di ENAIL. Per l'istituto è stato possibile diminuire i costi di gestione e migliorare l'organizzazione del personale. Con sportello digitale ENAIL ha iniziato a fissare appuntamenti online con i cittadini e a sostituire gradualmente l'elemento cartaceo. Un altro aspetto fondamentale e fattore chiave è stato l'approccio human-centered che ha consentito di migliorare l'esigenza e l'esperienza di cittadini nel confronto dell'istituto. Gran parte della burocrazia italiana è ancora basata sull'elemento cartaceo. ENAIL sta invece aprendo la strada all'utilizzo di nuovi strumenti digitali sia per altre pubbliche amministrazioni sia per altri settori stessi di ENAIL e sia in ogni caso in qualunque istituzione che debba entrare in contatto con i cittadini. L'agilità, la flessibilità e la scalabilità consentono di replicare la soluzione in tutti quei casi in cui sia necessario avere un'interazione tra cliente ed azienda. L'obiettivo è migliorare l'interazione e l'esperienza umana aumentando la fidelizzazione nei confronti dell'azienda.